Un tricolore sempre sventolerà in città Io penso di sì perché comunque come avevo ripetuto anche domenica scorsa abbiamo giocato la partita contro Ortona appunto sapendo già che insomma gli spareggi dovevamo farli e quindi abbiamo giocato senza tensioni e non si è vista particolare tensione in campo e abbiamo espresso un buon gioco La partita di Mondovì appunto è un'altra partita simile a questa perché ormai gli spareggi dobbiamo farli e diciamo che è una partita per provare a esprimere sempre un buon gioco e portare a casa magari la vittoria per il morale e per poter appunto fare subito gli spareggi in modo migliore Quindi a questo punto diciamo che la testa oltre che a Mondovì è rivolta agli spareggi Qualsiasi squadra che venga su perché a questo momento anzi fino a domenica prossima non si saprà il vostro avversario sarà sicuramente una squadra tosta e grintosa Siete pronte ad affrontarla con il carattere, la determinazione e la voglia di vincere che avete fatto vedere domenica scorsa? Sicuramente qualsiasi squadra sarà contro di noi gli spareggi sarà sicuramente un'ottima squadra anche perché come noi probabilmente anche loro vogliono subito portare a casa gli spareggi senza dover andare a fare appunti play out Quindi sarà sicuramente durissima ma con qualsiasi avversario noi avremo di fronte Ci dobbiamo assolutamente credere, ci dobbiamo assolutamente provare e dobbiamo appunto con la partita di domenica scorsa e quella di questa domenica provare con il morale giusto andare subito dritti al punto e alla salvezza Una domanda retorica, vi piacerebbe di più arrivare ai settimi ottavi? Beh, settimi ovviamente, non si punta mai all'ultimo posto, anche se sei quasi condannato non si punta mai all'ultimo posto Spieghiamo il perché Beh, perché in questo momento siamo ultimi e davanti a noi c'è Potenza Piccena che deve giocare, non mi ricordo contro chi esattamente Però, insomma, può portare a casa dei punti con Ortona in casa di Ortona e diciamo che dobbiamo assolutamente provare anche per magari prendere, non so, delle agevolazioni rispetto Ma diciamo anche che la settima va contro la seconda e l'ottava contro la prima Esattamente, anche se ancora non sappiamo appunto contro chi saremo però è importante anche calcolare questa cosa Grazie, in bocca al lupo, cosa diciamo? Crepi Siamo con Alessandro Arrienti, centrale del Cono del Reggio Emilia, che mi aiuterà a tradurre le parole di Lorenz E Lorenz, con Raimann, opposto del Cono del Reggio Emilia Lorenz, domenica con Ortona un bel 3-0, ma soprattutto un grande spirito di squadra Riuscirete ad avere lo stesso spirito di squadra domenica alle 19 con Mondovì? Riuscire a te domanda, come diceva? Riuscire a te domanda, come si spavamo contro Ortona e abbiamo vissuto E lei vuole sapere se contro Mondovì, probabilmente abbiamo avuto la stessa gara Riuscire a te domande, credo che contro Ortona abbiamo fatto un molto buon lavoro Riuscire a farlo tutto il tempo, e anche quando abbiamo fatto piccoli, stavamo calcoli E continuiamo a giocare il nostro gioco Hai detto che contro Ortona, diciamo che siamo stati abbastanza concentrati Abbiamo puntato subito all'obiettivo di vincere E anche se abbiamo fatto qualche errore a volte, siamo rimasti lì con la testa E abbiamo portato a casa la partita L'importante è chiudere al meglio la Pool C a questo punto Dispareggi, purtroppo ci siete arrivati, non sapete ancora che incontrerete Ma questa Konat, tenace, orgogliosa e dura a morire, ce la deve fare a mantenere la categoria Quanto ci credete a questa categoria? Quanto ci crede a noi, per sicuramente, dovremmo finire la Pool B e fare il secondo gioco per la Pool C Quanto ci crede a sapere, per quanto ci vogliamo finire il gioco e non fare il play-out Credo che tutti vogliono finire questi due gioco E non andare in gioco, bisogna giocare 4 più gioco E sì, credo Sì, ha detto che nessuno vuole perdere gli spareggi per andare giù e dover fare i play-out Per poi rischiare magari di fare male ma di vincere subito e finire l'anno in bellezza